Sono almeno una decina i mezzi sequestrati dalla polizia, ritrovati in un capannone situato al centro di Cesinali. Si tratta di camion, furgoni e mezzi meccanici, tutti oggetti di furto. La base operativa della banda, che ha seminato il panico giovedì sera dunque, era proprio al centro del paese. Cesinali, quindi, non era stato a caso punto finale della sparatoria. I componenti della banda, 5 arrestati e 1 morto, avevano studiato da mesi il piano criminale. Il loro obiettivo era il blindato, carico, che percorre il raccordo autostradale Avellino-Salerno. Un colpo milionario, proprio come quello messo a segno 5 anni fa. Il capannone, dove erano stati depositati i mezzi, era stato venduto all'asta e poi probabilmente acquistato dal tribunale. I mezzi sono stati sequestrati e portati via, scortati da polizie e carabinieri. A Cesinali sono giunti anche i parenti del 31enne rimasto ucciso, che chiedevano il luogo dove era morto il congiunto. Poi si sono portati nei pressi degli uffici della Questura. Il 31enne viaggiava a bordo della Jeep Compass Bianca insieme a un altro malvivente arrestato ieri mattina. La salma del giovane deceduto ora si trova all'obitorio Moscati, in attesa di disposizioni da parte della Procura, titolare del fascicolo e il PM Vincenzo Toscano. Sarà l'autopsia a stabilire in quale punto del corpo sia stato colpito e quali ferite hanno determinato la morte. I malviventi avrebbero aperto per primi fuoco contro la polizia che ha risposto esplodendo colpi per cercare di bloccarli. Gli agenti della Questura nel piazzale del cimitero avevano organizzato un posto di blocco dopo la segnalazione dei colleghi abruzzese e pugliesi.